Sì o no? Beh, secondo me la nostra responsabilità conoscenza, questo è quello di più. Allora, quindi a questo punto avete già pensato alla vostra testa chi di voi, secondo voi, è il vincitore del nostro primo circo di Slack? Se non l'avete fatto, lo potete fare anche ora. Fatto? Poi potete essere parte del pubblico. Allora, sempre pensate che Andrea Pette da Mozzieri. Sì, è il vincitore del nostro primo Mozzieri Poi di Slam. Fate casino ora! Sì, è il vincitore del nostro primo Mozzieri Poi di Slam. Fate casino adesso! Sì, è il vincitore del nostro Mozzieri Poi di Slam. Sì, è il vincitore del nostro Mozzieri Poi di Slam. Bene, questo è il vincitore del momento che abbiamo fatto lo Svizzolo per la stata l'impa. Quindi, se pensate che la Tria Pette da Mozzieri sia il nostro Mozzieri Poi di Slam, ma fate una sottoscenza, da destra o da sinistra. Allora, dai, io... No, voi siete obiettivi comunque, non ce ne so per le azioni. No, no, Andrea è bravo! Allora... Ci mancherebbe... Allora... Il testo e la performance. E io dicevo... Come dice? E hai rifatto Luciano Patti. Eh, fai... L'ho capito che l'hai pensato. E come l'hai guardato? Non è capito che l'hai guardato? Sì.